rigenera è il festival dell'architettura per ripensare una nuova idea di città dove l'architettura è il fondamento di una cultura del costruire creativa accogliente circolare rigenerativa di luoghi e spazi incontri laboratori eventi per coniugare l'architettura con sviluppo sostenibile salute socialità economia arti un'occasione per diffondere strategie culturali con la rinnovata consapevolezza di quanto una buona architettura possa essere generativa di nuovi modelli sociali grazie